Grazie anche da parte mia al professor Borini per avermi invitato e per aver voluto sentire il punto di vista dei veri protagonisti di tutta questa vicenda. Io prima ho sentito qualcuno parlare di pegno pagato, pagato pegno abbastanza piccolo, forse il professor Lanzone, questa legge. Io direi che i veri protagonisti di questa cosa, cioè noi i pazienti, non abbiamo pagato un pegno piccolo perché mille bambini o più di mille bambini nati, meno 10.000 coppie all'estero e forse più, sicuramente più ogni anno che sono andate all'estero. Molte pazienti che hanno dovuto rinunciare alla crioconservazione degli embrioni per accedere invece all'obbligatoria crioconservazione degli ovociti, che sicuramente, come è stato detto, è una pratica promettente e che vede l'Italia protagonista, ma che le pazienti hanno dovuto accettare, non in base a decisioni di tipo scientifico, medico, ma in base a decisioni per legge, quindi hanno dovuto subire una sperimentazione. Tutto questo non mi sembra un pegno piccolo che noi, cioè che i pazienti della procreazione assistita abbiamo dovuto pagare. I pazienti come hanno reagito a questa legge? Innanzitutto i pazienti hanno reagito già da prima che la legge 40 venisse approvata, perché io ricordo che quando era ancora il DDL 15-14 le associazioni di pazienti, i pazienti, le comunità sono state molto attive nel tentare in tutti i modi che la legge non venisse approvata. Non ci riuscirono, ci fu il referendum e intanto la reazione pratica, concreta, di vita delle coppie, qual è stata? Appunto, come dicevo, moltissimi hanno pensato a volte a ragione, a volte no, a volte in seguito a cattiva informazione, a volte in seguito a situazioni cliniche certe di andare all'estero. Ma per fortuna ci sono state anche le coppie coraggiose che sono restate in Italia chiedendo di poter accedere in Italia alle tecniche che erano loro proibite e che avrebbero potuti condurli appunto alla risoluzione del loro problema di infertilità alla gravidanza. Quindi le coppie che tramite le associazioni di pazienti, tra cui la nostra SOS Infertilità Onlus, ma prima di noi altre associazioni di pazienti, hanno appunto fatto ricorso perché questa legge venisse cambiata. E le coppie, quindi i pazienti, grazie alle associazioni e ai legali, al collegio legale che li ha rappresentati, hanno vinto questa prima grande vittoria che è quella della sentenza della Corte Costituzionale. E io rispondendo alla domanda come si può migliorare la legge 40 dal punto di vista appunto del paziente, dell'associazione di pazienti, del rappresentante di pazienti, io dico innanzitutto usiamo appieno questo primo fondamentale miglioramento. perché c'è stata questa sentenza. Noi associazioni riceviamo un po' tutti i feedback, tutti i commenti dei pazienti riguardo alle loro esperienze positive o non positive nei centri. Quindi dopo un iniziale entusiasmo seguito appunto alla sentenza, c'è stata una reazione da parte dei pazienti, forse anche dei medici, di grande confusione. Perché? Perché non hanno visto i pazienti una uniformità di risposta dei centri e dei medici al cambiamento della legge, che come la costituzionalista e l'avvocato ci dicono che la legge è cambiata. Ma non sempre, non tutti e non allo stesso modo, i medici hanno recepito la forza e la potenza di questo cambiamento. Quindi io approfitto di questa sede per fare proprio un appello, cioè rendiamoci conto che la sentenza c'è stata, che la legge è cambiata. Io proprio come paziente faccio questo appello, quindi ai medici che riprendano davvero in mano la loro piena professionalità, senza più i limiti che appunto li hanno condizionati in questi anni. Quindi il primo, non cambiamento, però il primo miglioramento è di prendere atto di questo grande miglioramento che c'è stato. Poi mi aggancio a quello che diceva la professoressa D'Amico, che è appunto una delle, di coloro che ha permesso questo risultato, che certamente se i ricorsi e i casi che abbiamo presentato a Milano lo scorso anno, che sono attualmente in Corte Costituzionale, ci porteranno a un ulteriore chiarimento di questa sentenza, proprio al comma 1 dell'articolo 14, quello un pochino più controverso per appunto per molti medici, quello sulla cricoconservazione meglio, quindi forse così tutti saranno più sereni nell'applicare la nuova legge, però già adesso appunto come è stato detto prima da me, la si può applicare. Quali sono gli altri punti che come appunto rappresentante di pazienti infertili mi auguro che in un modo o nell'altro si possano migliorare? Indubbiamente quello della cosiddetta fecondazione terologa, continuo a usare questo termine che so che al professor Flamigni non piace, ma è quello più alla donazione, all'uso di gametti esterni alla coppia, perché noi ad esempio dati dal nostro numero verde ci dicono che un 15% delle coppie chiama per avere informazioni su dove, come accedere a tecniche di questo tipo, perché ci sono anche altri, perché oltre alla limitazione fortissima del diritto dei pazienti, è anche l'accesso sempre più indiscriminato che ci risulta essere alle tecniche eterologhe all'estero, soprattutto di ovodonazione, cosa che prima in Italia non era, cioè c'era molto più controllo su chi e perché e come accedeva a queste tecniche. Adesso, come sappiamo, c'è un business crescente, soprattutto sull'ovodonazione all'estero, che ogni tanto provoca anche degli scandali come un paio di mesi fa, una clinica rumena, vi ricordate, appunto scoperta, che pagava, non so, 200 euro una donatrice contro i 15.000 euro che chiedeva alla coppia, diciamo, occidentale, di cui moltissime italiane che accedeva all'ovodonazione. Dati dal recente convegno ESCRE ci dicono che l'Italia, in quanto a migrazione procreativa, è in testa, cioè con un bel 30% nella lista di tutti i paesi europei, seguita da lontano, dalla Germania, con un 14%, anch'essa dovuta ad una legge piuttosto limitante, ma mai come la nostra. E anche su questo punto stiamo lavorando, usando la legge come strumento, visto che per il momento altri strumenti, altri atti di giustizia e umanità dal legislatore non arrivano, la nostra associazione con altre associazioni sta lavorando grazie al collegio legale e stiamo aspettando queste risposte di ricorsi sollevati sull'eterologa, sperando che anche se vadano in corte costituzionale. Un altro punto fondamentale, indubbiamente da migliorare, è quello dell'accesso alla diagnosi preimpianto, quindi alla PMA, da parte di coppie non infertili ma portatrici di malattie genetiche. E anche su questo punto sarebbe davvero da aspettarsi un atto appunto di umanità e giustizia da parte di chi di dovere, ma visto che al momento non pare così vicino, mi chiedo e chiedo anche agli avvocati, ai giuristi presenti, se e come sia possibile lavorare anche su questo punto usando coppie, come è stato fino adesso, coppie coraggiose che vogliano chiedere questa cosa ai tribunali e quindi alla corte costituzionale. E qui ho concluso.